buonasera a tutti mancano meno di 30 secondi alle 23 e sta per iniziare una nuova night session il volume appalla il microfono è un passo dalle labbra così siamo tutti contenti e andiamo a vedere che cosa abbiamo fatto durante la giornata nel gruppo premium dopo il gain dell'altra giornata siamo andati a ragionare di che cosa siamo andati a ragionare di uno short che da scalpata è diventato qualcosa di più interessante ho segnalato alle 9 10 della mattina quindi ritorniamo qui 8 ok perfetto a qui che avendo violato il livello inferiore di questo minimo potevamo andare short la violazione è avvenuta nei tempi corretti però avevo segnalato che non sarei andato short subito ma avrei preferito sinceramente attendere un rimbalzo se non sia un rimbalzo che mi dia un vantaggio sui prezzi è infatti rimbalzo che cosa è successo questo è il grafico precedente questo è il grafico successivo è rimbalzo arrivato quasi come se a chiedere all'universo le cose arrivano arrivato rimbalzo a questo punto ho aspettato che si avvicinasse un pochino qui ho inserito il primo chip e il secondo è partito invece qua infatti potete vederlo ok ora dovrebbe fermarsi con la media mobile vediamo se voglio di scendere e nel caso tecnica 2 short 14 e 32 eravamo qua eccoci qua perfetto su questa candela qua preso il livello superiore anzi cosa dico livello superiore presa la media mobile a 2 c a 50 periodi quella in rosso siamo andati short e che cosa è successo eccoci qua siamo andati sotto questo minimo con questa spike qui e quindi il risultato è sempre e solo uno gain questo per dire che anche se ci può temporaneamente venire contro il mercato non sono solo le analisi di voluta essere valide ma è anche come si gestisce il trade come si osserva che cosa bisogna fare quando inserì eventualmente una seconda tranche di ingresso short dopo una prima che era iniziata qua quando poi bitcoin il prezzo ci è venuto contro ed è salito leggermente fino alla media mobile quindi se facciamo una media di prezzi da qua qua andiamo comunque in gain bisogna fare attenzione in questo momento a essere rapidi a non rischiare troppo per un fatto estremamente importante quando siamo andati a fare questo massimo qua superiore a questo in realtà anche questo su tanti exchange e di nuovo variata la possibilità che da qui sia partito un nuovo t settimanale già vincolato a far salire i prezzi perché perché qui manca la violazione di che cosa oltre al tempo sotto questo minimo questo sotto questo massimo delle 16 15 del 13 5 e il tempo ce l'abbiamo ok alto che 48 barre qui sono 75 figuriamoci manca però una violazione di uno swing quello che fa partire che ci dà la certezza di un team verso mentre invece ho già segnalato al gruppo premium dove passa lo swing per la partenza di un team verso che ci darebbe la conferma che eventualmente il vero t settimanale inverso nuovo sta partendo qui e qui è molto probabile quindi che si debba tornare a quella che era l'indicazione precedente ok questo non lo si fa perché si fanno errori chiunque controlla che le centrature siano corrette e le adegua soprattutto al mercato ok per cui in questo caso ritorniamo a quello che era il pensiero precedente anche se ribadisco e lo ribadisco ancora una volta finché non avremo anche la conferma data dalla violazione di uno swing che potrebbe esserci solo data andando sotto il minimo 29.070 dollari da cui è il quinto t meno 3 noi potremmo dire che da qui univocamente sta partendo un nuovo un nuovo t inverso e come faremo a saperlo come già detto questo non è lo swing ma se andremo in violazione di questo livello e avremo un quinto t meno 3 ribassista anche se non sapete dove lo swing saprete che c'è una buona probabilità che il nuovo t inverso il nuovo settimanale inverso che fa le u sia partito da qui chi lavora nel premium invece spalla a spalla con me perché mi dedica tempo e dedica tempo allo studio dell'analisi evoluta avrà le cose avrà le idee molto più chiare qui può aver chiuso il primo t meno 3 inverso qui a 18 barre no siamo ancora in chiusura siamo ritornati a battere su questo livello che anche un livello di algoritmo dove passa anche la media mobile a 50 periodi vicino a quella blu a 200 e dove c'è il livello inferiore della nostra cumo vedremo se si fermerà qui qui tra l'altro vi faccio notare che è sempre l'ultima cosa che andiamo a vedere però c'è anche una bella cosina che si chiama divergenza ribassista ovvero massimi decrescenti per ora ovviamente e massimi crescenti per cui anche in questo caso vediamo se uno due tre indicatori che ci dicono in questo momento ribasso oltre al tempo inverso che quello che conta di più nella realtà di fatti ci porteranno a scendere e fino a dove ci porteranno a scendere perché ribadisco uno e due sono ancora opzioni in piedi qui non è stato violato da questa discesa il mimo che facesse partire con certezza un nuovo t inverso perché non è stato violato lo swing vediamo se da qui a questo punto lo fa se facesse un percorso di questo tipo adesso ve lo ipotizzo come al solito ma non prendetelo come al 100% bla 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 è un'idea per darvi un'idea ok se facessimo così ok andando sotto questo minimo anche se questo non è lo swing potremmo avere molte più percentuali di probabilità che il nuovo t inverso il nuovo ciclo settimanale inverso sia partito da questo massimo e non da questo tutto è ancora da verificare ah tra l'altro sta salendo parecchio la candela 30.189 30.244 ok vediamo mi ha fatto ridere quando quando stavo registrando l'analisi su nasdaq che potete rivedere ovviamente sul canale youtube perché siamo andati a target andando sotto questo minimo in tempo reale e mi son preso uno spavento che mi tabastava perché ero così concentrato sull'analisi su nasdaq che quando è arrivato il trillo ecco ho pensato oh cavolo devo cambiare sicuramente la suoneria del nostro gain anche perché non è particolarmente piacevole sinceramente altre cose particolari da raccontarsi in realtà non vi faccio neanche vedere l'altro grafico perché sto cercando di ridurre un pochino il tempo di questa analisi sia per voi che per me se possibile cercherei sempre di farlo in altri orari ma sappiamo che bitcoin si muove molto spesso dalle due due e mezza in avanti fino alle quattro perché sono i mercati americani che vanno in prime time e quelli asiatici che si svegliano per cui ecco ecco purtroppo chi decide di fare trading su bitcoin solo ed esclusivamente per il fatto che pensa che ci si possa arricchire facilmente su questa criptovaluta o non capisce molto di trading ecco valuti sempre il fatto che fare trading invece sugli indici tradizionali s&p 500 nasdaq dax e mib è molto più comodo tra virgolette se uno vuole più volatilità e più guadagno ma anche al contempo rischio maggiore sensibilmente maggiore ricordatevelo sempre è una regola base voglio guadagnare di più e sono disposto a rischiare di più eh sì ma se non guadagno e perdo perdo molto di più il rischio è direttamente correlato al rendimento comunque se volete correre meno rischi non necessari e se volete fare trading più comodamente scegliete gli indici tanto l'evoluta funziona su qualsiasi cosa dax mib s&p 500 nasdaq oro su tutto ciò che vi può venire in mente e diventa molto più comodo per tutti non bisogna mettere le svegli alle 3 di mattina invece per gli odler per chi crede nel progetto bitcoin cambia completamente la view e giustamente bisogna anche fare dei sacrifici in vista di quello che comunque può cambiare potrebbe eventualmente cambiare il mondo altre cose in particolare non ve ne dico perché intanto ci siamo già detti tutto domani aggiornerò anche con il grafico candele giornaliere bisogna capire cosa sta partendo da qui per adesso abbiamo soltanto 5 t-3 quindi anzi in realtà abbiamo soltanto un t-1 quindi possibilità di partenza di un t più 1 ma se continueremo a rimanere sotto questo sopra questo minimo a 26.591 dollari se ahimè perderemo smalto sarà un problema ma vediamo in realtà questo è il primo movimento questo potrebbe essere il secondo che ci darebbe molte conferme e poi questo swing a 31.500 dollari potrebbe essere fondamentale per una risalita dei prezzi di bitcoin vedremo vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata arrivederci grazie